Musica Incontriamo in questa serata dedicata all'associazione Noi alla presentazione del libro di Federico Angeli, Carlo Zampa che è una voce mitica per tutto il mondo giallorosso e non solo, reduci da una premiazione di un torneo di calcetto contestuale a questa manifestazione ma anche possiamo dirlo da un derby, un derby che insomma ha avuto un certo successo per la Roma Assolutamente sì, però ti dico che oggi è ancora più bello, è ancora più bello stare qui in questa giornata straordinaria un torneo bellissimo di calcetto, tanti bambini si sono divertiti, una cornice splendida, stupenda oggi giornata veramente estiva, non si può non stare qui vicino agli amici dell'associazione Antimafia Noi e a Federico Angeli per tutto quello che sta facendo, bisogna essere sempre di più, sempre in tanti sempre più forti, sempre più uniti per cercare di vincere, di lottare per la legalità un messaggio diciamo di legalità che passa anche quindi per lo sport e quindi inizialmente soprattutto dalle piccole generazioni, dalle giovani generazioni direi proprio di sì insomma, è fondamentale che insomma che i bambini e che i giovani crescano con questo tipo di idea e con questi ideali, quindi dipende chiaramente molto dai genitori e vedere comunque tanti genitori oggi qui, tante persone comunque adulte portare i propri figli e nipoti penso che questa sia la risposta migliore che si possa dare in questo momento Grazie a Carlo Zampa e Forza Roma Sempre, sempre Forza Roma, grazie